E salve a tutti amici copiliani e bentornati in questo nuovissimo video Prima che inizi tutto quanto vi ricordo che in descrizione trovate il link per il codice sconto di 5% con Gportal Quindi ringraziamo sempre Gportal per la sponsor E siamo su questo giochino due process, un gioco nuovo con il costo di 20€ su Steam E' un tattico 525, molto interessante perchè devi pianificare un po' la difesa o l'attacco Comunque molto molto bellino, mi ci sto divertendo E ho già un altro video pronto da montare purtroppo senza audio Perchè non so perchè non mi aveva registrato l'audio E che sono dei momenti salienti dove abbiamo fatto delle tattiche e delle giocate assurde Comunque guardatevi questo video, fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti Alla prossima, ciao belli Vedi che qua ci stanno sireni di attività Ah si hanno messo Ah boh, ah me ne vado Via Ok, se va Libero sembra No, è lì dietro Sono due, sono due Fatti Sono sotto io Fatto quello sotto Defuso Ah ok, posso, mi ho fatto Ah ok Minchia Allora Stavolta non c'è la spiaggia Io direi Se ci prendiamo un'altra charge potremmo entrare da qua Da qua dici? Anche da Anche da qua si potrebbe Che merda È un po' troppo largo Io te andiamo alla luna Allora prendo Mi tolgo la flash e prendo la charge C'ho la smoke Prendo il clac Levati la molotov Sì ma non c'ho la flash Eh levati la molotov C'ho la smoke No Va bene Vendo io E E poi vediamo come va Teoricamente uno deve guardare dalla finestra Cambio arma Quale finestra? Capirai quando lo vedrai Ah decidi andare qua poi? Sì Ok Ce guardo io sì Perché c'ho un'armata lunga Attento anche qui a sinistra È dritto qua su Sì Ma si può passare da qui? Uh Sì Buono come i pane Ce l'abbiamo Ok guardi Flash Oh Molotavo Fatto quello sopra Ce n'è uno qua One on ping I smoke the bomb Ok Ok defuse Non c'è power Non posso passare Non c'è nessuno sulla bomba Eh lo so No non c'è nessuno No non volevo Bella per Will I thought what happened I died I am very smart Grab Cyber Grab Cyber Thank you No problem Madonna ho proprio un cazzato Porca merda Hanno chiuso il vault Hanno chiuso il vault Che cazzo è la bomba Come cazzo è la bomba Come cazzo è la bomba Come cazzo entriamo Follow the line Follow the line Follow the line This one Yeah 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 There we go dude On the floor dude No 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 go back Go back Ok Ok Alright nice As soon as that vault opens You all need to push at the same time I'm gonna go get the button He's gonna go get the button Guys go for the button We're gonna run out of time Go for the button Backstage Backstage Follow the line Follow the line Follow the line Follow the line Alright now One person goes to the vault Go Go for the hole in the wall Now we're out of time He's in there And on xabi Fuck Ho preso l'altro oggetto in tempo Ecco, mettilo tipo un po' più indietro così Perfetto Da qua non si può entrare Oh, da l'explosion Sì, si bruciano So I'm gonna open the door so they don't have to destroy Io l'ho aperto la porta Eh, sono qua Hanno visto solo me, eh? Per ora Eccoli che li passano Ho fatto uno Coprimi No, ha pochissima vita È a fuoco, Conta Infatti è morto Hanno sfondato le vents Quindi occhio qua Prendo due barbeddi Prendo questo Non so, mi spiro Vado anch'io nel castellino perché c'ho il fucile da cecchino Fa pure rima Oppure potrei andare qua E la luce Minchia, eh, lì c'è la luce Sì, vado qua Quindi uno che, sì Non gli conviene Perché possono entrare easy da, da, da qua Va bene Si può fare Io ho preso due barbed Io uno solo Però va bene Ora Se Allora Che cosa posso Barbeddizzare Sai cosa? Anzi Vengo qua E metto due barbed wire Di qua E poi torno indietro Ok Ok Gli sento ma non li vedo Forse stanno venendo proprio da noi Sì 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 Una mano Bella le abbiamo completamente staccate Una è ancora laggiù Sì sono ancora là Stanno piccando in tre Sono flashata A noi arriva un'altra Era una granata questa Sono due di fronte alla porta Mamma mia non è morto dopo un bordello di colpi che gli ho sparato Nice one Nice mate Comunque il nome del team Big Booty Dudes mi faccia troppo Uhhh Grazie.